Buongiorno a tutti, Iron Elite chiama pianeta Terra, qui il dottor Gabriele Stefanelli, al mio fianco, felice dopo la sua condizionata infusione endopena di sangria, il dottor Tommaso Fratelli. Ciao ragazzi! Sempre al mio fianco, la nostra Iron Vanessa, per gli amici Vanjong. Ciao a tutti! Oggi andremo a parlare dello stacco rumeno. Questo esercizio è sicuramente uno degli esercizi più celebri e utilizzati al fine di sviluppare la catena posteriore, ovvero quella costituita da glutei e femorali. In apparenza anche questo può sembrare un esercizio privo di complessità, infatti spesso nelle palestre ci si approcciano persone che non hanno assolutamente le capacità coordinative e motorie per utilizzarlo al meglio, con risultati alle volte abbastanza disastrosi. Nel video che andremo a vedere cercheremo di focalizzarci su punti più importanti per permettervi di padroneggiarlo al meglio e sviluppare una catena posteriore degna di rispetto. Giusto per anticiparvi, quali sono questi punti che andremo a vedere? Prima di tutto quello di stabilizzare con l'addome in modo da non variare gli angoli della colonna, di cercare di tenere il mento vicino al pettorale e di tenerlo lì immobile e quando siamo in massimo allungamento quello di cercare di fare un crunch per guadagnare qualche altro grado di romano. Eccoci qua a immergerci nella pratica per imparare a gestire al meglio uno stacco rumeno. Punto primo e mi rivolgo anche e soprattutto a chi allena in palestra. L'errore più grande che si fa rispetto a questo movimento è prendere una persona e mettergli un bilanciare in mano, non avendo verificato prima che questa persona sia in grado di effettuare una corretta flessione d'anca, ovvero un massimo avvicinamento del busto alle gambe, mantenendo le curve della colonna in maniera corretta. Se non c'è questa capacità è inutile prendere un bilanciare in mano. Per cui la prima cosa, anche per insegnare un pattern di movimento, quello della flessione d'anca, l'eppingio come la chiamano gli americani, che è fondamentale per l'allenamento della catena posteriore. Cioè se non si sa fare questo movimento senza carico è inutile partire con un bilanciare. Per imparare a fare questo, per insegnare alla persona, che l'importante poi anche quando si andrà a fare uno stacco rumeno non sarà tanto per stare al bilanciare, ma al movimento dell'anca, noi creiamo un sovraccarico artificiale sull'anca, dato dalle nostre mani. Per cui mettiamo le nostre mani all'incirca all'altezza delle nostre peldi, da questa posizione, come vi farà vedere Vanessa, iniziamo a spingere indietro, il mento sta in posizione perché dobbiamo muovere quasi ovviamente l'articolazione dell'anca, andiamo più possibile indietro con il sedere. Il sedere va indietro, non in basso. Quando si è raggiunta la posizione di massima flessione la manteniamo e immaginando di fare una sorta di france inverso andiamo a contrarre tutti quei muscoli flessori dell'anca, come retto del femore, psoas, che ci avvicinano ulteriormente le gambe al busto per guadagnare qualche grado di flessione, come sta facendo lei. Sentirete tirare tantissimo tutta la catena posteriore, l'idea è quella di un arco che si tende. Da questa posizione, utilizzando le mani come resistenza, si spinge il lanc in avanti. Pensate sempre a un oggetto di lanc che va avanti e indietro. Di nuovo Vanessa, spingi bene il lanc indietro, mento in posizione, quando arrivi in basso cerchi di guadagnare qualche grado di flessione bravissima, esatto, e si spinge di nuovo contro le mani. Il concetto è sempre che l'anca va indietro, l'anca va avanti. Le mani generano una resistenza che fa capire al nostro cervello dove si deve andare a muovere. Fatto questo, quando si vede che una persona, come nel caso di Vanessa, riesce a gestire piuttosto bene questa situazione, ci si può approcciare al bilanciere. Per cui, ci si avvicina al bilanciere, si dice alla persona di staccarlo da terra come se si trattasse di uno stacco classico, per cui si utilizza anche l'articolazione del ginocchio. L'articolazione che nello stacco rumeno andrà sollecitata il meno possibile. Per questo si dice di andare solamente indietro con il bacino, ma non in basso. Perché quando il bacino va in basso, aumentano le gravi di flessione del ginocchio e ovviamente togliamo un po' di tensione da quelli che sono i muscoli che vogliamo andare ad allenare tramite la nostra flessione d'anca. Allora, scendiamo giù, stacchiamo il bilanciere da terra. Ok. Da questa posizione di partenza, adesso vedremo un movimento specifico per i femorali, per gli schiocurali. Poi dopo vedremo anche una variante per i glutei. Lei cosa fa? Sistema il mento, lo mette in posizione, comincia ad andare indietro con l'anca, va indietro, va indietro, va indietro, va indietro, va indietro, ok. Quando arriva al punto di massima flessione, tenendo tantissimo nel core, risale immaginando di avvicinare l'anca al bilanciere. Ma non arriva a chiusura del movimento, si ferma prima. Per mantenere la tensione, se voi notate, c'è una distanza fra il punto che rappresenta l'articolazione dell'anca e la linea di forza del bilanciere. Questo consente di mantenere una buona tensione sugli schiocurali durante tutto il movimento. Fai un altro paio di ripetizioni. Ok, molto bene, facciamo un altro. Ok, stop. Appoggia pure il bilanciere. Adesso, come sempre, visto che la tecnica, dobbiamo andare ad analizzarla sotto carico e va ad essere piuttosto forte, aumenteremo un pochino il peso sul bilanciere e tramite l'asurio del buon Tommaso Pratesi andremo a vedere cosa c'è da sistemare o meno nell'esecuzione di Vanessa. Benissimo, adesso abbiamo caricato 70 kg e partiamo. In questo caso non abbiamo con noi delle fascette e Vanessa userà la presa mista per fare lo stacco, però l'ideale sarebbe quello di utilizzare delle fascette in modo da non avere simmetrie future poi nella schiena. Ok, prendi pure. Ok, allora, da questa posizione qui, abbassa il mento, teni bene il stabile l'addome e possiamo andare su, teni duro il core, spingi forte e indietro il cedere, ancora, indietro, molto, stabilizza bene, è importante, il mento, funziona l'almento, su, tengo duro, ok, ancora, spingi forte e indietro il cedere, stabilita bene il core, ok, ancora, anche va a fare l'addome, stabilita forte e forte e forte, lì, tengo, ancora, le ultime due, spingi forte e indietro il core, spingi basso, dai, l'ultima, cerca di farla, resisti, dura col core, lì e appoggio. Ok. Bene, adesso abbiamo visto un set con 70 kg da parte di Vanessa, come potete vedere è stanca, un set fatto bene con questo peso, già è parecchio faticoso, lasciamo la parola a Gabriele che ci dà degli input su come spostare il focus del lavoro qui sui gluteo. Allora, lo stacco o meno può essere eseguito sia con una enfasi mirata sugli sconorali, ma possiamo anche decidere di lavorare in maniera selettiva il gluteo. Ricordatevi sempre, per lavorare il muscolo dobbiamo fare sì che questo sia il primo a comincia a raccontrarsi quando inizia la fase concentrica di movimento, quella attiva. Per cui la variazione che noi diremo di effettuare all'atleta per andare a targetizzare maggiormente i glutei nello stacco rumeno sarà anzitutto nell'inizio della concentrica. Posizione di Vanessa come tu avessi un bilanciere in mano. Solleva il bilanciere, si parla sempre dall'alto, uno stacco rumeno. Per cui se la fase eccentrica di discesa sarà la stessa di prima, per cui si penserà unicamente ad andare indietro con il sedere, si pensa solo ad andare indietro come se il bacino rotasse verso l'alto, verso l'esterno si avvicina anche al bilanciere e nella parte finale si spinge il gluteo verso il tallone. Si vede anche, credo, dall'immaglio della forte contrazione del gluteo. Per cui questi due tip, quello di iniziare il movimento in concentrica guidando letteralmente i piedi verso l'esterno sul pavimento come a creare una trepa tra questi piedi e quello nella parte finale del movimento di avvicinare in questo caso più possibile l'anca di lanciere e spingere verso il basso, massimizzando il lavoro del gluteo. Per cui è una variante da tenere decisamente in considerazione se nel vostro workout state dando una preeminenza all'allenamento del gluteo. Bene ragazzi, in conclusione vi volevo raccontare la mia esperienza con questo esercizio che ho particolarmente a cuore, perché mi ha comunque insegnato veramente quanto è importante anche il lavoro di isolamento sul muscolo per farlo sviluppare. Perché, come ho già detto in altri video, faccio powerlifting, sono un atleta agonista, sono arrivato a fare nella meno 83, 270 kg in gara e 275 kg in allenamento. Quindi voglio dire, sicuramente te non hai problemi, non hai bisogno di fare esercizi di isolamento sulla catena posteriore. Invece, chi l'ha detto, si sbagliava. Perché avevo dei femorali molto deboli e mi sono ritrovato a dover imparare a fare una corretta flessione d'anca, perché tutto quello che facevo prima, tutto lo stacco romano che facevo, mi lavorava nei lombari, essendo quelli molto forti e non avendo una corretta tecnica su questo esercizio. Dopo essere stato torturato da Gabriele a son di 10x15, con 60 kg, finalmente sono riuscito a imparare il corretto pattern, a stabilizzare bene e da qui, oltre a sviluppare una maggiore ipertrofia del femorale, del disco plurale, sono riuscito anche a migliorare poi il mio stacco, non solo per le ipertrofie in più, ma soprattutto perché conoscevo l'esistenza di un muscolo e sono riuscito a attivarlo in un sistema più complesso e in un'alzata come allo stacco dove vengono utilizzate terapeutazioni. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Ciao!